Di bilancio si discuterà nel prossimo Consiglio Comunale di Ischia. Presidente Mattel, allora un argomento importante. Di certo si chiude l'annualità economica dell'anno con l'approvazione del bilancio consuntivo 2018. È un atto dovuto sostanzialmente, un atto nel quale si prende semplicemente visione di quelle che sono state le spese. E' logico che quello che può incidere è come al solito l'aspetto dell'avanzo dove siamo costretti spesso a ricorrere all'avanzo di cassa per poter affrontare anche le spese che sono correnti. Di conseguenza sostanzialmente una semplice formalità che arriva in ritardo. In realtà secondo normativa di legge avremmo dovuto approvarla entro il 30 di aprile e poi è stata prorogata. E noi poi ci siamo arrivati con un po' di ritardo perché poi il revisore dei conti e la struttura comunale ci ha messo un po' di tempo evidentemente a quadrare anche il conto con le partecipate. Sarà la prima vera prova del nuovo consigliere Gennaro Scotti che ha dato già delle anticipazioni sulla sua posizione. Però dovremo vederle poi all'opera. Sì sostanzialmente sì anche se lui ha fatto le sue dichiarazioni si è dichiarato appartenente logicamente al suo gruppo di appartenenza col quale è stato eletto ma con un'attenzione ai temi piuttosto che a un diktat che gli viene magari dal suo partito sostanzialmente. Quindi sembra legato poi alle necessità del paese e questo gli dà atto che si sente anche in un certo senso libero di poter disporre della propria coscienza in caso di vuto.